Ivan e Alessia, una giovane coppia di Locri, neosposi, sono stati i protagonisti di un'iniziativa dell'amministrazione comunale, un'interessante campagna di sensibilizzazione sull'educazione ambientale e sulla cultura ecologica, battezzata con un albero e per sempre un'idea rielaborata ed ispirata a iniziative come la piattaforma Tridom, che invita gli innamorati a regalare un albero per San Valentino. Così l'amministrazione comunale locrese, guidata da Giovanni Calabrese, ha pensato un evento simbolico per l'intera città in occasione della festa degli innamorati. È avvenuto ieri pomeriggio in Piazza De Gasperi, sono stati piantati due alberi che simboleggiano la coppia. Testimonial dell'iniziativa sono stati appunto Ivan e Alessia, gli sposi più giovani uniti in matrimonio a Locri. Salve a tutti, io sono Alessia, lui è Ivan, mio sposo, mio marito, ci siamo sposati il 23 ottobre del 2020, quindi poco tempo c'è stato all'inizio appunto del lockdown e per noi quindi oggi è una grande gioia appunto poter prendere parte a questa iniziativa, proprio il giorno di San Valentino. È un giorno molto bello perché rappresenta l'amore, ma anche la vita perché l'albero appunto è la vita, rappresenta la vita, le radici forti di quest'albero che rappresentano tanto amore per noi, quindi questo è l'agurio che ci porteremo per tutta la vita, infatti questo albero crescerà come il nostro amore tutto l'anno. E sarà bello poi giorno dopo giorno passare di qui e vedere le piantine e gli alberelli che crescono e così ci possiamo ricordare di questo momento. Questa scelta dell'amministrazione comunale è una scelta che noi come osservatorio abbiamo condiviso e siamo felici che si instauri questa usanza perché piantare un albero è piantare un albero per le future generazioni, quindi farlo oggi in una giornata in cui viene celebrato la giornata dell'amore e della condivisione è una cosa molto significativa. Pertanto io credo che anche l'occasione di farlo in una bella piazza come questa è una scelta felice, infatti noi partecipiamo con tutto il cuore a questa iniziativa e siamo contenti anche che sia stato scelto un carrubbo perché il carrubbo è un albero che non ha una patria ma è un albero mediterraneo che cresce in tutto l'arco del Mediterraneo e questo vuol dire anche condivisione anche con altre popolazioni che non sono le popolazioni locali. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Alto Iornio e Regino guidato dal commissario straordinario Pasquale Brizzi. L'obiettivo, hanno detto l'assessore Fontana e Domenica Bumbaca, è quello di sensibilizzare alla salvaguardia ambientale per qualificare le aree verdi migliorando tutta la vita e l'habitat. Un'iniziativa per San Valentino che vuole omaggiare l'amore e soprattutto insomma ricordare quanto è importante l'amore anche per l'ambiente. Abbiamo pensato come amministrazione comunale di appunto organizzare questa piccola iniziativa ovviamente con tutte le restrizioni purtroppo che il Covid implica. Ringraziamo ovviamente il Consorzio Alto Regino Ionico per la donazione di questi due alberelli che saranno oggi piantati proprio per simboleggiare l'amore. Abbiamo pensato come amministrazione comunale di contattare quindi la coppia più giovane. I ragazzi si sono sposati a ottobre e quindi abbiamo pensato di chiamare loro perché fosse un simbolo proprio come un albero è per sempre che l'amore appunto primeggi su tutto. Il concetto è di San Valentino, è un albero è per sempre, un diamante è per sempre. Quindi noi sostituiamo il concetto di albero al concetto del diamante è per sempre. un albero l'augurio che facciamo questi giovani sposi è quello che il loro amore sia profondo come le radici di un albero e tutti alla fine abbiamo bisogno di essere ancorati stabilmente, quindi come le radici profonde di un albero con i principi e i valori che ci devono accompagnare tutta la vita. poi in fondo un albero rappresenta la vita, rappresenta un po' tutti, ogni persona perché noi dobbiamo essere con le radici profonde, con questi valori profondi, principi saldi, con la chioma rivolta verso l'alto quindi i principi e i valori che devono sempre elevarci e quindi questo è l'augurio che noi possiamo fare. ricordiamo anche che per quanto un albero possa diventare alto le sue foglie cadranno e andranno sempre e ritorneranno sempre alle radici perché le foglie cambiano, le radici sono quei valori nella vita specialmente nella vita di coppia che devono essere sempre conservati.